Poi a chi mi dice, cretino, cosa prendi di stipendio al mese per poter giudicare ti auguro di finire in miseria assieme alla tua famiglia che lei si commenta da solo, nel senso che noi abbiamo cercato di spiegare perché l'affermazione in quei tre lander ultima risposta, chi dice guardi che i migranti non potrino via il lavoro ai tedeschi o agli italiani, lo vado a dire alle centinaia di migliaia di camionisti e muratori che hanno perso il lavoro, sì, lo sappiamo attenzione però che se parliamo poi di casi specifici andate a chiedere ai camionisti e muratori se sono stati i migranti extracomunitari o determinata concorrenza interna nel caso dei camionisti, abbiamo parlato molte volte di società slovene, croate tutte legalmente all'interno dell'Europa e tutti europei per cui prima di dire che è il camionista siriano che porta via il lavoro da quello che risulta noi, sono i camionisti sloveni, sono alcune furberie, trucchetti di paesi già nell'Unione Europea che portano via il lavoro ai camionisti italiani e in alcuni casi anche ai muratori comuni Grazie.